Ard Style, volume 2 Vai chi si riparte! Riparte la cassa adesso! Alla grande, alla grande! Vai chi si riparte! Seleziona Elixir per voi, Cavaliere DJ! Sc tragen le patate, procedenpo per forma al ganas, Come se imaginione nel cinese! Applicate la pasta che avvene, Come se Ininaовые ungefährlege di дивan, Passano a 15 minuti e mirogo! Imelita la attrae, Andstone firstiro, Il titolo Il titolo Il titolo Il titolo Il titolo Vai vai siamo sulla nave Sulla nave della musica Avete sentito le talombe? Vai vai andiamo Andiamo Siamo in lungo mare Il mare aperto Il mare aperto Dove non ci può sentire nessuno Il titolo In meno pausa In meno pausa Ma poi si riprende Let me see you dance Il titolo Sulla il piano piano Ma ci siamo qui ma parla Ma dopo picchia Picchia di brutto con la cassa Domenico Cos'è il barco Sono un pazzito Sono un pazzito Sono un pazzito In questo sabato di festa 25 aprile Cavalieri Sempre la pausa La pausa La fausa La fausa La fausa Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.